Mi piacerebbe anche andare alla menza di Treviso, secondo me è una cosa bellissima Ed entro in un circo di persone veramente squisite Non parlo dei barboni, parlo di quelli che aiutano i barboni, i barboni mi fanno schifo Allora Se uno non mi conosce, ogni frase che dico, se la prende sinceramente mi Mi ammazzerebbe, cazzo